Ma hey, come state? Come va la vostra esistenza? Nello scorso video ho completato Minecraft senza rompere blocchi e in questo video proverò a completare Minecraft senza piazzare blocchi. E questo non vale solo per i blocchi, ma vale per qualsiasi cosa, quindi non posso piazzare barche, non posso piazzare arboscelli. Tuttavia mi sono dovuto dare per forza delle eccezioni, ovvero acqua e lava, in modo da poter costruire un'entrata nel nether, gli occhi del land nel portale del land per andare nel land e infine qualsiasi metodo per accendere il portale, che sia una Fireball o che sia un acciarino. Oltre a ciò quindi è possibile completare Minecraft senza piazzare niente? Queste challenge le faccio in live su Twitch, quindi se volete vederne altre in diretta potete seguirmi lì. E ovviamente ci sono diversi video challenge su YouTube, dategli un occhio se volete. Enjoy! Con il ferro già ce l'occhio, che cazzo di ragionamento sto facendo? Anch'io sono molto intelligente, vedo. Il pillar di... no, il pillar per il golem! Ho fatto il pillar per il golem, no! Oh, no! Questa challenge non è difficile, basta, ma è difficile perché faccio un sacco di cose come automatismo per le speedrun. Sei dietro di me? Perfetto. Oh, bro, che c'è? La rich? Ma cazzo hai fatto colpirmi? Oh, bro, ma io c'ho dentro casa. Rompo questo dato perché mi dà fastidio. Tanto poi lo droppo. Raga, che cazzo? Come ho fatto? Come ho fatto attraverso le pareti? What? 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 Ok, c'era un blocco d'oro qua. C'era un blocco d'oro qua. Devo prendere questo. Questo qui. Ah, c'è un'altra cassa lì. Vai, giovanillo, di pure. Via questo. Ciao, questo è tuo. Questo è tuo. Siete troppi, però. No, 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 no. Questa non è stata una bella mossa, secondo me. Questa non è stata una bella mossa. No, no, ti prego, ti prego, no. Ti prego, ti ho... Io non è stata una bella mossa questa per niente. Questo era il buco che io mi sono scavato per stare attento che i piglin non mi raggiungessero. Ci siamo, ragazzi. Cos'era successo che non sentivo niente? Era crashato Twitch. Credo che sia stato un problema di Twitch, raga, perché la mia connessione era normale. La mia connessione era posta. Adesso ci siamo tutti. Porco. Stavo guardando la chat. Dai, dai. Il bioma sale da solo. Non so. Infatti, infatti, infatti. Non sono così scemo come a volte sembro. Oh, no. Ho guardato vendermi. No, no, bro. No, bro, ti prego, no. No, 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 no. No, bro, scappa, scappa, scappa. Non ci credo. Raga, ma che... E poi, infine, è arrivato il quinto tentativo. Villaggio lassù? Sì. Comunque la crafting qua non c'è. Oh, lì c'è la crafting. Vedete che ormai li riconosco. Che bello. Almeno la crafting stavolta c'è. Ok, due alberi. Uno là, uno là. Bro, mi dai anche una barca? Che siamo posti e faccio tutto in fretta. Bro, ma è qua la barca. Raga, non ci credo. Cioè, ma... Oh, vi giuro, raga. Io l'altro giorno mi sono guardato tutte le mie clip delle speedrun migliori. Succede un botto di volte. Che dico, basta questo e sono a posto. E succede. Ma un sacco di volte, raga. È qua sotto, vero? Qua sotto, non dall'altra parte. Yes. Ok, sette di iron e tre d'oro. Ma grazie di cuore. Grazie davvero. Me lo ammazzo anche l'iron golem, così mi faccio anche il ferro di riserva. Che bellessa. Che bellessa. Tento al pillar. Ci stavo pensando anch'io, Jade. Infatti ho pensato, quel blocco di sabbia lì, di fianco a me, è di una pericolosità. Raga, ricordiamoci sempre. Tre blocchi presi, blocchi spostati dall'inventario. Là c'è un altro villaggio del deserto. Ma che me ne faccio? C'ho già quello lì a... Allora, facciamo così. Poi vascavo giù. Mi raccomando, non devo risalire facendo un pillar. Ok. Guardate tutti questi blocchi. Via, via, via. Ok, comunque, dove eravamo rimasti? Allora, secchio sicuro. Cos'altro mi serve? Scudo sicuro. Va bene. Allora, guardate quanto ci vuoi. Dirite che basta? Io direi che basta, ma ne prendo un altro po'. Giusto per sicurezza. Tre stock di pane. Poi devo ammazzare l'iron golem. È solito che per ammazzarlo faccio il pillar, come ho già fatto tempo in passato. Ma lo colpisco e mi nascondo in una casa. Quindi vieni qui. Seguimi. Mi metto qua dentro. Tu vieni qua davanti. E io ti ammazzo qua davanti. Ok, bene. Benissimo. Villaggiere, ti dovresti spostare. Villaggiere, levati dai piedi. Bravo, scappa via. Iron golem? Sono qua. Iron golem? Perché devi fare tipo i film horror che passa avanti e indietro? Ti devo solo ammazzare. Poi... No, mi serviva fare un altro piccone. Lo scudo l'ho già fatto. Raga, mi manca qualcosa? Dai, non penso. Manca il cibo, raga, il cibo. Allora, lo prendo al prossimo villaggio. Ehi, delfinetto. Buon giuro. Ti chiamerò Billy. Ma per sbaglio piazzi un fiore come un blocco? Sì, allora. Se lo piazzo per sbaglio, ma non è una cosa che influisce sulla speedrun, non cambia niente. Cioè, non è che resetto. Ma se faccio qualcosa, utilizzo un blocco per scappare, costruisco con dei blocchi in qualche modo e li utilizzo e quindi influisce sulla mia... Non speedrun, sulla mia challenge. Allora, non va... Non funziona. Oh, c'era pure un fabbro qui, ma dai. No, mi serve una pozza di lava adesso. Oppure 10 di ossidane e fabbro anche, perché no? Pum. Bro, 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 bro. 5 diamanti. Posso fare un piccone se trovo l'altra crafting. Lava. Yes. Dimmi di sì. Dai, ha la forma di una pozza di lava. Deve essere... Let's go. Let's go. E altri due villaggi. Raga, altri due villaggi. Mi prendo il cibo. Bro, c'è un fabbro. Voglio controllare cosa c'è nel fabbro. Boom. Altri due diamanti. Ah, raga, bro... Ah, l'armor me la metto. Perché non posso mettermela? Quella lava. Allora, si fa così. Guardate. Uno, due. Poi. Si scavano. Tre blocchi ai lati. Quindi, questa è la base. Ok. E poi basta fare così. E ora, uno alla volta, si procede. Partendo dal... Dalle cose più lontane. C'è una bella scaletta. Ok. Manca l'ultimo. L'acciarino ce l'ho già. Ah, no. Non avevo l'acciarino ancora. Ok. Via la zappa. Togli i blocchi dall'hotbar? Assolutamente sì. Metti del pane in una quantità decente? Assolutamente sì. Togli i blocchi dall'inventario che non servono? Sì. Togli le rose perché non siamo degli amanti. Signori. Via. Già che siamo aperti, tanta roba. Già che siamo aperti. Bro, fortezza qua. Let's go. So già anche dove è la fortezza. Bene. Ora devo solo usare F3 e fare la mia bellissima X-ray bastion che non faccio da sei secoli. Megan Lucky. Non ci sono bastioni. Vabbè. Almeno, almeno, almeno ho la fortezza qua di fianco. Quindi questa è una cosa positiva. Ora. Questi blocchi. Ma perché c'ho sempre sabbia nell'inventario santissimo? Fai il giro. No, questa è la via per i blade spawner. Mi sono abbastanza sicuro. E infatti, eccolo qua. Nice. Niente Wither Skeleton per me. Easy. Vai, sparate tutti e tre ragazzi. Uno. Due. E tre. Perfetto. Mori. Ok. Mori. Oh. Mi sono fatto colpire. Colpa mia. Sono scarso. Via questo. Era un attimo una situazione panino. Mi stavo preoccupando. Ok. Easy. Addirittura dieci, raga. Come non detto. Easy. Easy, signore. Adesso devo solo andare extra regione. Raga, il vero problema è... Se io non... Se io trovo pozze di lava e non trovo... ...modi per muovermi. Come cazzo mi muovo nel nether? Perché non ho ender, perché non ho niente. Non ho neanche una barca, perché non la posso piazzare. Niente, raga. Devo per forza, purtroppo... Non posso seguire... Cioè, non posso seguire non la strada, ma non posso seguire... ...l'X-Ray Bastion in questo caso. Perché devo seguire la terraferma. Non posso non seguire la terraferma. Questo è un bel problema. Almeno trovassi qualche enderman... Bro, dimmi che qua non è tutto immerso nella lava e che non c'è una via d'uscita. Perché se no sono nei cazzi e devo tornare indietro. Ti prego. Raga, il problema principale è se trovo il bastione rimane l'armatura in oro. Che non ho. Eccolo lì. Eccolo lì ed è un... Tesoro? Tanta roba il tesoro, credo. È tanta roba, però un cazzo perché non ho l'armatura in oro. Quindi è un bel problema. Guarda, ci posso anche arrivare da sopra. Che bellezza. Quindi prendo l'oro da qua. Giusto? Allora, no, aspetta. Facciamo... No, non posso piazzare i blocchi, vero, vero. Non posso piazzare i blocchi. Le ceste sono qua sotto. So già anche dove andare a prendere le ceste, più o meno. Ok, lì c'è una cesta. Bro, mi dai l'armatura in oro, ti prego? Eccola. Yes! Yes, sir! Qua c'è un altro blocco, ma lo prendo dopo, in caso. No, non c'è. Niente. Never mind. Voi qua cosa mi avete droppato di bello? No, no. Perché qui siamo arrabbiati? Oh, raga, lasciatemi uscire, veloci. Eh, facciamo... No, come faccio? Eh, facciamo... Ok, così. Easy. Tutti dentro. Tutti dentro. Ah, là mi è caduto un blocco, vabbè. Cinque di ossidiana, niente male, eh. Niente male. Ma tanto l'ossidiana non la posso piazzare. Che cosa sto dicendo? Raga, io devo per forza tornare il mio protale iniziale. Non c'avevo pensato a sta roba. Di blocchi d'oro ce ne sono altri, ma me ne frego, perché non mi servono. Di Fire Resistance ne ho abbastanza. Il resto non mi serve. Ecco cosa mi serviva. Frecce nelle casse. Qua. Ok, non mi hai visto, vero? Ok, non mi ha visto nessuno. Qua altre frecce? Easy. Ci siamo. Let's go. Uè, uè, uè. Questo? No, raga. Ok. No, never mind, never mind. Sono pronto, sono pronto. Fire Resistance. Ma niente. Vado via. Ok. Sono impanicato, raga, lo ammetto. Bro, perché ho preso... Ah, ok, il danno del lander per me. Oddio, mi stavo spaventando di non aver bevuto la Fire Resistance. Uh. Qua ci sono mai stato. Eee, la banda c'è qui. La banda. Corri, 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 bro. Qua mi sembra di esserci stato. Sì, 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 io sono arrivato da qua sopra, credo. Mi sembra di esserci stato, cheat. Eh, infatti non... Ho un attimo il senso d'orientamento un po' sballato, devo essere sincero. Secondo me io sono arrivato da laggiù. Ehm, per trovare il mio portale iniziale mi sono perso e ho dovuto chiedere alla chat le coordinate del mio portale, dato che io stesso non me le ero segnate. E per fortuna qualcuno ce le aveva. Madonna, dovevo solo segnarmi le coordinate. Vabbè, 27 blocchi, raga, non sono tanti, eh. Uno. Eccoci. Oh, grazie, bro, per la tua... per il tuo aiuto. Non so perché mi ricordavo che questo portale fosse molto più in alto e che questo fosse molto più in basso. Quindi cercavo di salire, invece dovevo scendere. Ok, raga. Ce l'abbiamo trovata. Raga, mi serve il lavoro per fare le frecce. Che si chiama... Tipo... Frecciaio. Come cazzo si chiama quel lavoro? L'arciere. Si chiama Arcaio. Ecco come si chiama. Flecher. Non mi veniva. Ma in italiano si chiama seriamente Arcaio. Bro, guarda il villaggere. C'è il villaggere in cima alla... No, bro, non buttarti, bro. Non buttarti. Non buttarti, fidati. Fidati il tuo villaggio anche se è nel deserto e non avete cibo. Perché ve l'ho rubato tutto, bro. Non buttarti e puoi ancora vivere. Puoi ancora apprezzare la vita in un piccolo villaggio con i tuoi amici, bro. Bro, ascolta me, ti prego. Bro. Dove sei? Non voglio spingerti, ovviamente. Cazzo, lo spingo giù io. Bro, non farlo. Non farlo. Non devi saltare, bro. Non saltare. Non è il momento. Fidati. Fidati. La vita è bella. Non hai ancora apprezzato niente di quello che può dare. E se... E se finisci tutto adesso, non saprai niente di quello che ti può dare. Bravo che hai inuito. Basta. Siamo a posto. Ti ho convinto? Sì. Ciao, eh. Ancora là, bro. Basta. Oh, qua c'è una crafting. Non l'avevo mica vi... Ma... Ah, questo non lo sapevo. Credevo. Ok. Ho scoperto che un nuovo tipo di casa ha anche la crafting. Voi direte, i diamanti li puoi usare per qualsiasi altra cosa. È vero, ma voglio armatura. Pantano in diamante. No, non è questo l'arcaio, direi. Boom. Recaio. No. Ma sì, a questa run la vinci 100%. No, io non sono sicuro di vincerla. No, dai, allora. Onestamente, sarei scarso se la perdessi. Voi non avete idea. Io ho il rosario in mano e sto pregando di non perderla. Guarda. Guarda. L'ho detto ed è apparsa la croce. L'ho detto ed è apparsa la croce nella sabbia. È quella lì. Sì che è quella lì. Dimmi che è quella lì. Credo. Sì. Sì, sì, sì. È questa qui, è questa qui. Ok, raga. È questa qui. Vabbè, comunque, allora, qua abbiamo il recaio. Ok, abbiamo il recaio. La domanda è, il villaggiere che ha il recaio dov'è? Cioè, qua c'è il recaio ma non c'è il villaggiere che ha il recaio. Vi anche questo. Bro, dimmi che ho culo ed è giusto il primo colpo. Se no, devo trovarmi letteralmente un altro villaggio. Tu dimmi che sei il mio uomo. Guarda, guardami. Guardami mentre cammini. Dimmi che sei il mio uomo e che hai il trade giusto. Dimmelo, eh. Dimmelo. Dimmi che sei il mio uomo. Ti prego. Pum. È giusto. È giustissimo. Cazzo sì, è quello giusto, è quello giusto. Fuck yes. Che culo. Yes. Yes. Madonna. È bello che ho dovuto guardarlo un po' perché ho detto, ma è quello giusto o... Cioè, davvero mi è andata così di fortuna. Raga, ho quattro stack. Fammi il tatto-tac del villaggio che si ricarica. Eccolo, let's go. Ce l'abbiamo fatta, andiamo. La direzione la so. Ed è quella là. Via. Cioè, sicuro come non so che cosa. So dov'è. E questo c'è ancora per forza. Questo qua. Eh, per forza. Cioè, non è che si può sbagliare. Triangolando a due metri. Mi bardo... Mi chiudo sopra che se mi piove qualcuno da sopra e invece sarebbe stato un errore. Oh, raga. A me questa è la parte che fa più paura. È dato sinceramente. Quasi più del land. Perché, vedete, è pieno di mob. Guarda che brutto in alto. Vai, esplodi, bro. Eccola, trovata. Dai, dai. Rompi, 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 rompi. Ok. Signori. È arrivato il momento. Vai. Signori. È arrivato il momento. Dov'è il drago? Raga, faccio F3 più B così vedo meglio il drago, eh. Anche se normalmente io non lo faccio mai, F3 più B. Ma almeno vedo meglio tutto. Mancato. Mancato. Troppo in basso. Troppo in alto. Oh, ma ce la faccio a prenderlo. Ok, hai preso. Non guardare gli enderman. Non guardare gli enderman. Facca, ma secondo me la sto mancando sempre di mezzo millimetro. Oh, bro. Ok. Credo che... Credo di averle quasi rotte tutte, raga. Colpita. È fatto anche danno al drago. Let's go. Scappa. Distrutta. Let's go. Vattene via. Vattene via. Vattene via. Vattene via. Ok. Che sbatti, raga, ammazzare l'ender dragon con le frecce, comunque. Ma si... Rigenera lui? Sta rigenerando? Oh. Ero in F5. Ok. Raga, pochissima vita. Raga, ce la sto per fare. Dai. Dai. Pronti? Dai. Manca poco. Oh. Sì. Oh. Let's go. Ce l'ho fatta. In due live, una da tre ore e una da due ore e mezza, ma ce l'ho fatta. Non così tanto impossibile come sembrava. Oh. 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 Va che bello. Va che bello. Allora, non mi sembravano in lutto e il villagero non era più quassù. Quindi o è morto o è tutto bene e non ha posto fine alla sua vita. Devo chiedere. Devo chiedere alla civiltà. Ascolta, avete perso qualcuno in questi ultimi mesi? Lui ha fatto di no, avete visto? Ha fatto di no. Ha mosso la testa di lato e ha fatto... No. A posto. A posto. È ancora vivo. Let's go. Let's go. Ha funzionato il mio intervento di salvataggio di un villager che voleva porre fine alla sua vita. E niente, questa challenge che non era poi così troppo difficile, almeno se confrontata con la challenge di non poter rompere i blocchi, è stata completata. Noi ci ripetiamo nel prossimo video. Bye bye.